Un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato ritrovato in un cantiere edile a Battipaglia, nella zona dell'ex zuccherificio in Via Turco, dove nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per realizzare un gruppo di palazzi. Il ritrovamento della bomba è avvenuto nel pomeriggio di ieri e sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno recintato la zona dove è stata trovata la bomba, lunga meno di un metro. Le forze dell'ordine hanno informato la prefettura di Salerno e nei prossimi giorni gli artificieri dell'esercito italiano dovranno effettuare un sopralluogo per stabilire le procedure di disinnesco dell'ordigno bellico. Solo dopo il sopralluogo dei militari si potrà sapere se ci sarà bisogno di evacuare la zona a ridosso dell'ordigno bellico o se verranno adottate altre procedure. La bomba è stata trovata durante i lavori di scavo nel cantiere di Via Turco, poco lontano da un asilo e dalla linea ferrata. Nel 2019, sempre a Battipaglia, in Via Spineta, fu trovato in un terreno agricolo un altro ordigno bellico, molto simile a quello rinvenuto nelle ultime ore in Via Turco, e fu disinnescato dagli artificieri dell'esercito italiano. In quell'occasione fu necessario evacuare gran parte di Battipaglia, chiudere l'autostrada e fermare il traffico ferroviario, quasi per un'intera giornata. Non escluso che si debba prevedere una nuova evacuazione a Battipaglia della zona a ridosso della bomba, ma questo sarà deciso solo dopo il sopralluogo degli artificieri.